Il settore privato genera e detiene una grande quantità di nuove fonti di dati che sono frutto della trasformazione digitale. Lo scenario sta evolvendo molto rapidamente e sempre più fonti di dati sono diventate mature per essere utilizzate nella statistica ufficiale anche integrandole con le fonti più tradizionali. L'accesso ai dati privati e le fonti digitali in genere sono ormai oggetto di grandi riflessioni sia in ambito del sistema statistico europeo parlando di potenzialità e innovazioni per la produzione di statistiche europee anche per rispondere meglio alle politiche europee ma anche in ambito G20 presieduto attualmente dall'Italia. Finalmente possiamo affrontare questo tema dell'accesso dei dati e dei giacimenti digitali in maniera propositiva cercando di portare possibili soluzioni. Questa sessione non è quindi il luogo per affrontare problemi. Li conosciamo, ci interfacciamo con essi quotidianamente. È un modo per trarre evidenze anche attraverso le esperienze internazionali e capire quindi come possiamo per esempio mettere in piedi gradualmente come partnership pubblico-private, come utilizzare forme digitali come le immagini satellitari, adottare metodi e tecniche come quelli dell'input privacy preserving in maniera tale da delineare delle possibili soluzioni che ci consentono di accedere a questi dati garantendo ovviamente sempre la privacy.